Musica Appassionati di basket, un saluto da Nicola Trigare e benvenuti al Paladesio per la notte della verità. La visita del Maccabi rappresenta un passaggio fondamentale nell'avventura europea della Bennett Cantu. Musica I used to roll the dice, feel me, feel my enemies eyes, listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long as the king... Musica Scermadini, chiama a pala disperatamente il connazionale Marco Ispili, non arriva con i tempi giusti, Scermadini chiude, un'azione a tre, strepitosa. Musica Musica Serbo, intanto Mazzarino, Astaka Bernstein, lo batte! Potenziale gioco da tre punti! Musica 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 da guardia, esce, spara, in faccio! Questa è dentro, è tornato Martellunen! Non dispensa per tutti, con una grande vittoria! Nobbi in piedi, 6.000 e rotti del paladesio!